Straordinario successo di pubblico per l'incontro che ha tenuto ieri pomeriggio a Sciacca Marco Travaglio, noto giornalista, scrittore ed ospite fisso nel programma di Rai 2 Anno Zero. Informazione libera contro tutte le mafie, libertà di stampa, ingerenze politiche ed ingerenze mafiose. È stato questo il tema principale di un dibattito, che è stato moderato da Alberto Montalbano ed è stato organizzato dall'Associazione di Promozione Sociale Altra Sciacca e dal Cafè Orchidea. Almeno 350 le persone che stipate all'interno della Sala Luna del Cine Campidoglio sono giunte non solo da Sciacca ma anche dai paesi dell'Interland, come Partanna, Santa Ninfa e Santa Margherita di Belice ed altre 300 erano collegate online da tutta Italia, grazie alla diretta streaming garantita dagli organizzatori. Da sottolineare soprattutto la presenza massiccia di tantissimi giovani ed in particolare di numerosissime ragazze, segno che determinati argomenti cominciano ad attecchire nelle nuove e future generazioni. Durante l'incontro, seguito con particolare attenzione e silenzio, un silenzio spesso interrotto dagli applausi, si è parlato degli ultimi fatti di cronaca e politica, dall'aggressione al premier Silvio Berlusconi alla libertà di informazione in Italia, dal ruolo dell'opposizione politica alle dichiarazioni del pentito Spatuzza e del boss Graviano. Telefonate che si dividono in due categorie, quelle che arrivano dai giornalisti italiani e che mi chiedono che cosa dico a mia discolpa rispetto alle accuse lanciate ieri dal noto piduista. E poi giornalisti stranieri che mi dicono, ma te che centri con l'attentato? C'è da domandarsi com'è possibile che l'uomo più potente d'Italia, che ha un centinaio di uomini a sua protezione ogni volta che gli tirano qualcosa arriva regolarmente a bersaglio, due tiri, due centri, che scorta è quella che dovrebbe scortare il Presidente del Consiglio se ogni volta che gli lanciano qualcosa si apre? Non so, tutti a terra, tirano della roba, non è questa la scorta, non possano esistere mandanti per uno squilibrato, non esistono mandanti per uno squilibrato, se uno vuole commissionare un attentato non lo compie, commissiona uno squilibrato, anche perché poi lo squilibrato non lo controlli, alla fine nel suo squilibrio magari dice chi gli ha mandato a fare quell'attentato, quindi a nessuno verrebbe in mente di ingaggiare uno squilibrato, anche perché negli altri Paesi è considerato normale che i partiti di opposizione si oppongano, non capisco che è curioso dirlo in Italia, è considerato bizzarro, infatti voi vedete che l'unico partito che si oppone, cioè quello di Di Pietro, viene continuamente trattato come una banda di appestati, proprio perché appunto il fatto che si oppongano suscita curiosità, ci si guarda intorno e dice ma di quello sta all'opposizione e si oppone, e non collabora col governo per dire non si fonde con il partito di maggioranza in un unico partito, che c'è un clima di odio nel Paese, ma dov'è questo clima di odio? Ma chi l'ha visto? Ma dove sta? Ma dov'è? C'è un pazzo che ha tirato una cosa in faccia e c'è un regime che sta approfittando del gesto di un pazzo per liquidare i suoi ultimi conti rimasti in sospeso, questo è quello che sta succedendo, lo capiscono tutti, si vede chiaramente, fanno cinque nomi e hanno risolto il loro problema, hanno zero, il fatto, il gruppo Repubblica, che altro ha detto? I settori giustizialisti del PD, che non so dove siano, ma comunque speriamo che ci siano, e vabbè poi c'ero io, terrorista mediatico, anzi è curioso che ci sia tanta gente ad ascoltare un terrorista che potrebbe da un momento all'altro estrarre un'arma e fare fuoco, grazie per la fiducia, sono venuto disarmato oggi eccezionalmente. Un incontro particolarmente atteso a Sciacca, che non ha deluso le aspettative e che ha permesso a diversi ospiti della platea di poter rivolgere delle domande al giornalista. Momenti di confronto e di crescita culturale, che proseguiranno anche domani con l'arrivo a Sciacca di Salvatore Borsellino, fratello del giudice ucciso dalla mafia in via d'Amelio, di Sonia Alfano, europarlamentare e figlia di Beppe, giornalista ucciso da Cosa Nostra, e di Gioacchino Genchi, consulente informatico che ha collaborato all'inchiesta antimafia di molte procure e magistrati, tra cui Giovanni Falcone e Luigi De Magistris. L'appuntamento è per domani sera, alle 20, presso il liceo classico Tommaso Fazzello di Sciacca.